La memoria, nella mia visione del mondo, è una delle principali risorse che possiamo accedere. La memoria è tutto quello che ci aiuta a essere chi siamo, a individuare chi siamo, a riconoscere chi siamo. Quel chi siamo non è necessariamente un fatto individuale, ma può essere un fatto collettivo. Può essere un ambito familiare o addirittura un ambito nazionale o addirittura un ambito transnazionale. Essere in grado di ricordare che cosa sei stato aiuta a riconoscere chi sei e anche questo va applicato alle categorie precedenti. Credo che sia la principale risorsa che abbiamo. Se questo festival insieme a memoria mette identità nella sua edizione o dicitura, è proprio perché grazie alla memoria non perdiamo la nostra identità e abbiamo la nostra identità perché c'è la memoria. Grazie. Grazie. Grazie.